Danni a coltivazioni e troppi incidenti stradali causati dai cervi ma anche dai cinghiali, in generale dalla fauna selvatica, così il parco regionale Sirente Velino annuncia per bocca del presidente Francesco D'Amore e dell'assessore regionale all'agricoltura Emanuele Imprudente azioni di controllo, ma la decisione di abbattimenti selettivi eventuali ha suscitato un mare di polemiche, un modello che si rifà ciò che accade nel parco dello Stelvio con abbattimenti selettivi con carabina. Il presidente D'Amore in un recente convegno ha spiegato che sono troppi danni provocati gli agricoltori e anche gli incidenti stradali. Sulla stessa lunghezza d'onda l'assessore Imprudente che spiega che va trovata una soluzione immediata al problema. C'è un problema complessivo molto serio, si stanno facendo gli studi, monitoraggi e bisognerà mettere in piedi tutte le azioni possibili per cercare di contenere questo fenomeno. Uno di questi fenomeni e una di queste azioni è il controllo che deve essere fatto anche all'interno delle aree protette. Il parco regionale Sirentevelino è partito con uno studio, sta cercando di capire anche sistemi funzionanti in Italia quali sono. Il parco dello Stelvio, il convegno che c'è stato l'altro giorno, è proprio un modello che funziona e che ha la sua attività. Noi dobbiamo essere attenti ad avere un ecosistema che sia ben equilibrato, avere la capacità di gestire al meglio, con equilibrio, con responsabilità, sapendo del valore ambientale e sapendo che però c'è anche oggi un problema serio, che è un problema della pubblica incolumità, c'è un problema di pubblica sicurezza, c'è un problema legato ai danni agli agricoltori che sono veramente ingenti e importanti. Ma dal WWF, Sinistra Italiana in particolare, è arrivata una pioggia di critiche e loro insistono invece sulla necessità di usare recinzioni o repellenti e per limitare gli incidenti usare dissuasori visivi e sonori e potenziare al tempo stesso i sottopassi. Sinistra Italiana ha ribadito che l'abbattimento dovrebbe essere l'ultima possibilità e non la normalità e ha insistito sul fatto che, piuttosto, regione e parco dovrebbero mettere in atto strumenti di prevenzione per salvaguardare il cervo, elemento iconico delle aree interne. Un modello cosiddetto di abbattimento selettivo con carabina, adottato dal parco dello Stelvio, unico in Italia, non ci sembra la soluzione ideale. La strada del fucile facile dell'altronde è già stata tentata dalla giunta regionale abruzzese per quanto riguarda i cinghiali, con risultati assolutamente fallimentari. Il cervo rappresenta un animale iconico delle nostre aree interne, che attira turisti da tutto il mondo e per questo dovrebbe essere preservato. Il parco dovrebbe impegnarsi di concerto con la giunta regionale affinché vengano dotati gli agricoltori, potenzialmente danneggiati da questo animale, di strumenti quali per esempio le reti che proteggono le coltivazioni, i sistemi di distruzione visiva o acustica. L'idea di visione di questa governance del parco, politicamente legata alla giunta Marsilio, assomiglia di più alla gestione di un giardino zoologico oppure un bioparco. La riperimentazione ne è l'esempio, l'idea di sparare alla fauna al suo interno ne la conferma.